Sono un po' rammaricato perché ultimamente, ma negli ultimi mesi, insomma, sono sentendo un po' la base, spesso e volentieri non c'è un'idea sul territorio, nella militanza così positiva di Regione Lombardia. A me dispiace un po' di questo perché certamente governare è molto più difficile che fare l'opposizione, questo è abbastanza evidente. Però ci sono delle cose positive che abbiamo fatto perché, ricordava prima il Presidente Maroni, insomma, la Regione Lombardia è l'unica regione che ha bloccato la costruzione di nuove moschee nel nostro paese, da Cantù a Bergamo a Sesto, in tanti altri posti, se non ci fosse stata la nostra legge, molto probabilmente oggi avrebbero già iniziato i lavori per la realizzazione delle moschee. E non mi sembra poco, visto anche quello che sta succedendo nel mondo, mi sembra invece qualcosa di molto, molto importante. Da cittadino lombardo io mi sentirei fiero di avere la Regione Lombardia che prende queste decisioni e porta avanti queste leggi. Ma non è solo questo, è solo un esempio, ce ne sono tanti altri. L'esempio, per esempio, portato avanti soprattutto sulla base delle difficoltà economiche in cui oggi molta gente è, insomma, versa sul nostro territorio. Stiamo parlando di circa 600.000 lombardi che sono in difficoltà, che non riescono a tirare a fine mese. Bene, Regione Lombardia, e cito una misura fatta proprio dalla Giunta, ha portato avanti il cosiddetto reddito di autonomia per dare una risposta certa a tante famiglie, ad anziani, a giovani che sono senza lavoro. Anche queste sono ovviamente delle misure concrete che come Regione abbiamo fatto. E a partire dal gruppo consigliare e dalla Giunta c'è tanto impegno che va in questa direzione. E continueremo su questa strada. Certo, poi, le critiche, chi governa, chi si prende le responsabilità, sbaglia. Si può fare certamente di più, si può migliorare. Siamo pronti, per esempio, sulla legge delle moschee, così lo dico, ovviamente qualora dovessero impugnarci, qualora dovessero giudicarla anticostituzionale, noi abbiamo già pronta una nuova legge regionale che presenteremo, che approveremo, e andremo avanti così, perché se in Regione Lombardia abbiamo deciso che le moschee non si devono costruire, noi andremo avanti e non le costruiremo. Faremo di tutto per mettere regole severe, poi, prendendo spunto da molti commentatori che poi ci accusano. E riteniamo che se la legge l'avesse fatta la sinistra avrebbero detto che andava bene, invece l'abbiamo fatta noi della Lega e chiaramente subito dei razzisti e quant'altro. Sulla vicenda del referendum, due parole veloci, perché siamo contenti che il Presidente Maroni abbia annunciato di volerlo fare. abbia annunciato come data che condivido il 24 di aprile, ovviamente dobbiamo aspettare che decidano quando ci saranno le elezioni amministrative, però difendo anche la sua scelta come Presidente di aver tentato la strada della mediazione e del confronto con il Governo. Ha chiesto di aprire una trattativa perché altrimenti poi dopo dicono che noi leghisti vogliamo solo portare avanti le nostre bandierine e non invece portare a casa risultati concreti. Bene, questa trattativa è stata aperta ma a quanto pare è stata chiusa subito in quanto nella legge di stabilità non è stato inserito nulla di quello che il Governo aveva promesso. Non ci sono i costi standard, non ci sono le risorse in più, non si è preso in considerazione il residuo fiscale, non si sono concretizzate tante cose che Renzi e la sinistra PD, quindi il Partito Democratico Lombardo, hanno detto che avrebbero voluto fare. Bene, a questo punto il referendum facciamolo, lo so che sarà difficile perché bisogna portare la gente a votare, c'è il rischio che possa essere un flop, questo è vero perché poi se va poca gente a votare saranno subito pronti a dire ecco i leghisti con il loro referendum, sono andati in pochi a votare. Però qua, io lo dico, dipende molto da noi perché se noi siamo i primi, e lo dico a tanti militanti e a tanti sostenitori, che non ci crediamo a questo referendum, poi è difficile che riusciamo a portare a votare tanta persona e tanta gente. Ci dobbiamo credere davvero, dobbiamo andare sul territorio, dobbiamo insistere su questi punti, altrimenti sarà difficile davvero catalizzare tante persone. Ma anche qualora, che è la preoccupazione principale, ci dovesse andare poca gente a votare, beh, a quel punto c'è il rischio del flop. Sì, bisogna anche saper rischiare, come hanno fatto altre nazioni. Saper rischiare, perché intanto se non rischiamo sarà comunque un flop, perché alla luce della riforma della Costituzione, purtroppo le regioni verranno quasi del tutto cancellate. Ed è l'opposto di quello che il federalismo e che la Lega sta portando avanti da tantissimo tempo. Quindi questa battaglia va condotta fino alla fine. Chiudo facendo un in bocca al lupo, e non gli auguri che portano sfiga a Paolo Grimoldi, per il lavoro che dovrà svolgere. Già dal punto di vista organizzativo molte cose sono state fatte, si è visto comunque un certo movimento e una certa collaborazione, impegno anche sul territorio, e quindi di questo assolutamente gli va dato atto. Ecco, la sfida del futuro, secondo me importante, è quella delle elezioni amministrative. Qui a mio giudizio ha ragione Matteo Salvini, quando dichiara che alla fine non basta, cioè sulla sfida futura non basta, poi alla fine dire sì, va bene, cercheremo di portare avanti i candidati o quant'altro, ma bisogna poi trovarli questi candidati, bisogna aprire le sezioni. Purtroppo sul nostro territorio ci sono sezioni che hanno lo stesso numero di militanti da più di 25 anni. Poi quando si va a votare facciamo fatica a trovare il candidato sindaco, facciamo fatica a fare la lista e poi siamo in difficoltà. Quindi apriamo le sezioni, facciamo entrare gente nuova, smettiamola di difendere in tanti casi quel piccolo potere che è considerato essere o far parte della sezione. Apriamoci assolutamente perché è fondamentale, se no altrimenti rischiamo nel corso del tempo di non avere amministratori e quindi oppure dove andiamo magari tante volte a governare poi di non riuscire a dare dei risultati concreti che la cittadinanza ci chiede e soprattutto se abbiamo della gente valida sul territorio anziché fagli la guerra perché non fa parte del capobastone X o Y, cerchiamo invece di valorizzarlo perché è così che si costruisce una classe dirigente. Ma non accuso nessuno perché ho fatto segretario provinciale per ben cinque anni e quindi faccio il mea culpa, anch'io sicuramente ho fatto degli errori e quindi ho sbagliato di fronte ad alcune scelte che sono state fatte ai tempi. E i giovani, visto che mi hanno preceduto nell'intervento, do un consiglio, visto che sono stato responsabile dei giovani dal 94 al 99, coordinatore nazionale del Movimento Giovani Padani della Lombardia. I giovani, lo dico qui da Toccalini e all'Andrea Crippa, anziché guardare, valutare che sia il giovane un movimento parallelo alla Lega con le sue funzioni, la sua autonomia o quant'altro, magari che rischia tante volte di andare al servizio di Tizio o di Caio, i giovani devono essere al servizio delle sezioni, un movimento giovanile più vicino a quella che è l'iniziativa delle sezioni, perché è così che si cresce, così che sono cresciuto io, che è cresciuto Grimoldi, che è cresciuto Salvini e in tanti sono cresciuti a contatto con la vita delle sezioni. Bene, vi ringrazio, vi auguro buon congresso, buon lavoro a tutti, ovviamente padagna libera e poi di solito in questi casi si dice sempre viva Salvini, sì, giusto, viva Salvini, ma non basta dire viva Salvini, bisogna anche poi fare quello che Salvini ci chiede di fare. Grazie.